Sottil recupera Filosa ed è questo il regalo trovato sotto l'albero di Natale dal tecnico piemontese in vista della sfida contro il Foggia di giovedì. Mini ritiro a Cosenza per provare una storica impresa dove solo il Fondi è riuscito a vincere in questo campionato. Anche Sean Namè potrebbe rivedersi a Foggia con Turati squalificato in vista della gara. Chi non ci sarà è sicuramente Longoni insieme a De Zai alle prese entrambi con un infortunio al ginocchio che smaltiranno verosimilmente dopo la sosta. Sottil prepara un 4-4-2 alternando prudenza e spensieratezza nella speranza di regalare l'ultima gioia dell'anno ai suoi tifosi. Morale alto anche per l'Akragas dopo la vittoria in trasferta ai danni della Vibonese che regala di Napoli una necessaria boccata d'ossigeno. Arriverà il Lecce all'esseneto ed il tecnico del gigante prepara una gara attenta soprattutto su Catorano, Pacilli e Dumbià per sfruttare le qualità dei suoi in ripartenza. Di Napoli punta su Cochissi in attacco nel tentativo di creare pericoli alla difesa salentina. Morale basso invece per il Messina dopo la disfatta nel derby contro il Siracusa alla vigilia o quasi della gara più attenta dell'anno contro la Regina nel derby dello Stretto. Non c'è stata alcuna pausa per gli uomini di Lucarelli che anche a Natale hanno lavorato in vista del tanto atteso match. Una gara che vale sempre oltre tre punti come confessa Maccarrone. Su Social Network è la partita più sentita, la più importante vogliamo regalare alla gente di Messina una gioia. L'augurio del difensore che palesa la giusta carica che i peloritani cercano in vista di una gara tanto attesa.